Amici oggi vi presento un piatto della tradizione messinese, Bucatini alla ghiotta di pesce spada. La ghiotta di spada è una base di pomodoro e soffritto misto quale cipolla, sedano, rive verde, salamoi e capperi. In questo soffritto si possono mettere diversi pesci e ogni volta è magia. Oggi tocca appunto al pesce spada. Per questa preparazione è molto importante la scelta del taglio, infatti è conveniente scegliere il taglio, quello vicino alla corda dove sono presenti grasso e cartinaggine perché è un sugo strutturato. Mettiamo quindi questo soffritto, facciamo andare il pesce spada, sfumiamo con il vino rosso, sì perché in un sugo del genere non soltanto sfumiamo con il vino rosso, ma ce lo possiamo anche bere un ottimo vino rosso. Mettiamo una passata di pomodoro, deve sobollire, deve cuocere lentamente i Bucatini ed ecco qua ragazzi, la magia è pronta. Provare per credere! I really love the taste star! Every time we meet, she's a...